Semplificazione urbanistica, votati 6 articoli su 44. Città della salute, quella di Novara è più grande di quella di Torino. Il tema è stato al centro di un'interrogazione a risposta immediata. Concorso, le note del cuore 2022, decisi i vincitori. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. In primo piano la proposta di legge in materia di semplificazione urbanistica. Votati 6 articoli su 44, contingentati i tempi di discussione. Votazioni sino all'articolo 6 su 44 complessivi per la proposta di legge 125 sulla semplificazione delle norme urbanistiche ed edilizie. Il testo di legge a prima firma Lega ha iniziato il suo iter a febbraio dopo un lungo percorso in commissione urbanistica, durato 16 sedute. La proposta di legge rivede le norme sul riuso edilizio, le ristrutturazioni, l'utilizzo dei rustici, dei locali sottotetto e di interrati e semi-interrati, la delocalizzazione dei fabbricati costruiti in aree a rischio idrogeologico e le competenze dei comuni. Poiché sono stati presentati complessivamente 411 emendamenti al testo di legge per evitare tempi eccessivamente lunghi di discussione, la conferenza dei capigruppo consigliari ha disposto il contingentamento dei tempi. Nella seduta di martedì sono stati discussi e votati 78 emendamenti. 8 sono stati approvati, di cui 2 di opposizione. Gli articoli della proposta di legge 125 approvati sino ad ora riguardano l'adeguamento dei piani regolatori dei comuni al piano paesaggistico regionale, la ristrutturazione dei rustici, l'incremento del carico antropico, il riuso e la riqualificazione degli immobili legittimi. I consiglieri dell'opposizione sono intervenuti in aula e hanno duramente criticato la scelta di contingentare i tempi di discussione perché mette di fatto il bavaglio alla minoranza definendo la dittatura della maggioranza. È stato ribattuto che i tempi lunghi e il numero di emendamenti ritenuto eccessivo ha portato a tale scelta. La discussione della proposta di legge proseguirà nelle prossime sedute del Consiglio regionale. La città della salute di Novara è più grande di quella di Torino e ha un numero inferiore di posti letto. Il tema è stato al centro di un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Tra il Parco della salute di Torino e la città della salute di Novara esiste un'eccessiva differenza nel rapporto tra metri quadri e posti letto e quanto segnalato dal Movimento 5 Stelle in un'interrogazione a risposta immediata rivolta all'assessore regionale alla sanità nell'ambito dei question time. A Novara sono stati calcolati 125.031 metri quadrati per 671 posti letto mentre a Torino sono stati calcolati 122.000 metri quadrati per 1.044 posti letto. Differenze di parametri dimensionali rispetto ai quali il gruppo 5 Stelle ha chiesto se esistano o meno motivazioni scientifiche. Oltre a specifici assunti di carattere progettuale secondo quanto illustrato in aula dall'assessore alla sanità la differenza fra una maggiore e una minore superficie unitaria di progetto può dipendere dalla possibilità di realizzare un modello organizzativo funzionale e gestionale più o meno intensivo. L'intensità del modello può dipendere a sua volta non solo dalle specifiche dell'organizzazione che gestirà il nuovo ospedale ma anche dalle relazioni che l'ospedale stesso potrà stabilire con le reti sanitarie di riferimento per la gestione della continuità ospedale-ospedale e ospedale-territorio. La rete con la quale si confronterà il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino permette una più efficiente gestione della proprietà degli accessi e della continuità e quindi una migliore valorizzazione del modello hub e SPOC. Le superfici unitarie di progetto del Parco di Torino risultano pertanto inferiori rispetto a quelle dell'intervento previsto per Novara per il quale si prevede un modello meno intensivo ma altrettanto efficace ed efficiente rispetto agli esiti in termini di salute. Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha ricevuto in visita a Palazzo Lascaris il comandante della Scuola Lievi Carabinieri di Torino, il colonnello Giovanni Spirito. La caserma Cernaia di Torino è il più antico istituto di formazione dell'arma dei carabinieri e è stato rimarcato nel corso dell'incontro un vanto per il Piemonte, terra in cui la benemerita nacque il 13 luglio 1814. Decisi i vincitori del concorso Le note del cuore 2022, la premiazione dei brani inediti si terrà al Salone del Libro. Il brano Il sogno del cuore, cantato da Andrea Allemanno, Andrea Di Sarno, Dario Gerga, Davide Mariuzzo, Simone Luise dell'Istituto Comprensivo Marconi Don Minzoni di Collegno e la canzone Tutto cambierà, cantata da Filippo Borca, Niccolò Ciraolo, Carmine Colucci, Davide Moretti, Nicola Sterlato dell'Istituto La Grangia di Vercelli, sono i due inediti vincitori dell'edizione 2022 del concorso gemellato con la partita del cuore, rivolto agli studenti delle classi medie e superiori delle scuole piemontesi dal titolo Le note del cuore, promosso dagli stati generali della prevenzione e del benessere del Consiglio regionale del Piemonte. I primi classificati avranno la possibilità di suonare il loro brano nel prepartita della partita del cuore, che per rispetto al conflitto in Ucraina sarà posticipata a dopo l'estate. Oltre all'abbonamento Musei Young, i primi tre classificati delle scuole di primo e secondo grado riceveranno un buon omaggio per l'acquisto di strumentazione musicale, parteciperanno a una giornata formativa in compagnia di alcuni componenti della Nazionale Cantanti, avranno la possibilità di ascoltare il loro inedito sulle principali radio e web radio del circuito piemontese e riceveranno in omaggio due biglietti ciascuno per assistere alla partita del cuore. I vincitori delle diverse categorie saranno premiati nel corso di una cerimonia al prossimo Salone del Libro, occasione in cui i primi classificati potranno per la prima volta cantare dal vivo il loro brano. Circa un centinaio gli studenti che anche quest'anno hanno partecipato al bando promosso in adesione alla partita del cuore, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Associazione Nazionale Cantanti, presentando una loro canzone, inedita per testo e per musica, accompagnata da un video amatoriale. In occasione della Festa della Liberazione 2022, il progetto Giustizia straordinaria e militare coordinato da Maria Di Massa organizza tre giornate di studio, il 5, 6 e 7 maggio, sul ruolo della giustizia militare in ambito nazionale e internazionale, tanto nello scenario bellico quanto nel periodo successivo alla liberazione europea, l'8 maggio 1945. L'iniziativa è sostenuta dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte. Gli eventi si svolgono online via Zoom e in diretta streaming e in presenza previa iscrizione. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!